Questi i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province dell'isola, aggiornati alle ore 12 di oggi, così come segnalati dalla regione siciliana all'unità di crisi nazionale. In totale sono 130 pazienti, di cui 44 ricoverati, 82 in isolamento domiciliare, 2 guariti e 2 deceduti. Questa è la divisione delle varie province, Agrigento 18, Caltanissetta 2, Catania 57, Enna 2, Messina 9, Palermo 28, Ragusa 2, Siracusa 8, Trapani 4. Il prossimo aggiornamento avverrà domani, lo comunica la presidenza della regione siciliana. Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus.